ciao cinefusi.it oggi vi parlo di suspicious minds un film scritto e diretto da emiliano corapi questo film è stato presentato all'ultima festa del cinema di roma nell'ambito della sezione alice nella città panorama italia è un film che è prodotto da world video production rai cinema e other entertainment co prodotto da big flamingo e barbari films con il supporto del lazio cinema international e il ministero della cultura si tratta di un film interessante che parla della storia di due coppie fondamentalmente mette a confronto due generazioni di coppie una coppia molto giovane di ragazzi e un ragazzo una ragazza e una coppia sposata da 20 anni gli interpreti sono francesco colella amanda campana matteo oscar giugeli e l'attrice olandese tecla roiten immagino si dica così spero e sono i quattro protagonisti appunto di questo film che si svolge a roma i quattro per diversi motivi si trovano a roma in vacanza la coppia più giovane perché da como è venuta a fare una vacanza a roma in quanto la ragazza della coppia vuole far conoscere la città al proprio fidanzato mentre invece la coppia sposata è venuta a roma perché a roma si sono conosciuti e lasciando per la prima volta a casa i figli da soli hanno deciso di fare una vacanza tet a tet che più che rivelarsi la vacanza romantica che avrebbero pensato avrà dei risvolti molto diversi l'ambientazione del film è qualche volta un po claustrofobica le prime scene si svolgono all'interno del taxi che porta in maniera distinta la coppia giovane e la coppia più grande che li trasporta dall'aeroporto all'albergo dove hanno deciso di soggiornare e dove tutti e quattro si trovano a soggiornare a passare questa vacanza sarà proprio nell'albergo che avverrà un fatto diciamo banale ma che per loro diventerà l'innesco di alcune situazioni che porteranno delle grandi tensioni e porteranno anche a delle crisi di coppia che poi si evolveranno in maniera differente le une dalle altre e infatti la ragazza della coppia e l'uomo della coppia rimangono chiusi per alcune ore in ascensore da soli e questo porterà dei risvolti particolarissimi infatti il regista tramite un montaggio che passa dal dal presente al flashback di delle situazioni e appunto della situazione in cui i personaggi si trovano all'interno dell'ascensore e gli altri due componenti della coppia invece compiono altre azioni quindi passando costantemente tra questi due piani temporali si si crea un un gioco quasi di di suspense poiché il fatto che la giovane ragazza con l'uomo maturo siano rimasti all'interno dell'ascensore provocherà in qualche modo la gelosia degli altri due componenti della coppia o comunque innescherà una serie di di dubbi e di domande che porteranno queste due coppie a a pensare a ripensare ai loro rapporti di coppia appunto la sceneggiatura l'ho trovata abbastanza interessante e anche se in qualche punto ho trovato che il film fosse non proprio brioso forse avrei preferito non so un montaggio magari un pochino più veloce comunque rimane una rimane una commedia se così vogliamo chiamarla ma forse non è neanche una definizione adatta quella di commedia perché e appunto c'è anche questa sorta di di suspense noi per tutto il film non sappiamo se i due personaggi che sono rimasti chiusi nell'ascensore abbiano avuto un incontro anche amoroso sessuale così come il la moglie e fidanzato della ragazza che era rimasta in ascensore se abbiano avuto appunto una trisca e questo dubbio si svela poi alla fine del film e tutto questo porterà diciamo le coppie a a vivere quello che è successo in maniera diversa e con dei risvolti diversi quindi c'è anche un po questa dimensione di sorpresa che tiene abbastanza vivo l'interesse fino alla fine del film che per il resto insomma è una narrazione abbastanza classica diciamo del anche come immagini come inquadrature di sia del dei rapporti di coppia anche il modo di di narrare la storia